10.000 firme per chiedere al governo Renzi di mantenere le sue promesse, questo è l'obiettivo dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna. Tra gli impegni non mantenuti dal governo, il risarcimento e l'indennizzo per i familiari delle vittime, l'introduzione nel codice penale del reato di depistaggio e la reale declassificazione dei documenti sulle strage da parte dei ministeri dei servizi segreti. Questo è l'appello del presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna all'interno della trasmissione Area Pulita. Io volevo lanciare un appello ai nostri ascoltatori perché indubbiamente da soli non ce la facciamo a portare avanti tutte queste cose e bisogna dire che molto probabilmente abbiamo toccato delle cose sia sui mandanti, sia sul depistaggio, sia su quest'analisi che stiamo facendo sulle carte che sono state versate dai servizi e dagli altri ministeri, cioè anche quest'analisi che le dicevo prima, l'analisi critica e abbiamo un muro completo di fronte, sembra quasi di pestare con un mortaio dell'acqua in un mortaio e allora a questo punto occorre che i cittadini facciano sentire la loro voce venendo il 2 agosto naturalmente a fianco ai familiari delle vittime ma anche far sentire a Renzi la voce il 2 agosto non è una data per andare in tv ma è una data per quando si prendono degli impegni e si debbono mantenere. Allora siccome gli impegni sono stati fatti sia per i risarcimenti che per il reato di depistaggio vanno mantenuti fino in fondo altrimenti questo governo è un governo che non mantiene la parola tanto per essere molto chiari e venirla a dire qui il 2 agosto credo che non sia molto simpatico non solo per i cittadini molognesi o per i familiari delle vittime ma per tutti i cittadini italiani. Per firmare basta cercare su Google il titolo della petizione e cioè Renzi rispettate le promesse.